Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Eccola, eccola, no, persa, sta sgamata, sta sgamata, sta sgamata, eccola, eccola, c'è, c'è, no, pure questo, pure questo ha perso, ha schizzato, sta sgamata. Non ho perso dall'inizio ragazzi, oggi sono in compaglia di Manuel, spero dove si vede, e Dijmahel, Samuele. E' una persa dura ragazzi. Manca poco alla fine, manca una settimana alla fine della stagione. E' già stato troppo a pesca sotto. Non abbiamo fatto in molti video, ma ci sarà breve un video sulla, su come è andata la stagione quest'anno. Oggi è iniziata la male, perché già ne ho agganciate due, questo è anche schizzato, ma ne ho persi tutte e due. Non è che sia proprio, neanche. Allora non demordiamo, vediamo un po'. Fatto stare che su questo moto, sembra che il pesce comunque è bello attivo. Ma cosa c'è? Eccola, eccola. L'ho presa, oh, al volo. Quello giretino, che bella questa, oh. Guarda come il somma. Eccola un po'. Manco per avere un secondo. Mi sono scordato pure l'oretino. Non ne so neanche un secondo, non lo sai. Si è recuperato. Questa è quella che si è slamata prima. In puntina si è slamata, si è slamata, oh. Quella! Eh? Non è nulla, ma? Eh? Non è nulla. E' bella, è bella. Bella, oh. Da video. E' bella, oh. Aspetta, ora la facciamo vedere bene, aspetta. Questa è bella, oh. E' bella, oh. Questa è una bella trota, oh. Vai. E' bella trota, che la riusciamo subito. Oh, eh, bianco. Oh, lì, bianco. Vieni, ho perso i due. Vero questo. Vamos. Dai, raga, impegnate il pesce attivo. Va bene, va bene. un veirone un veirone reale si te nuota un veirone reale 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 reale la mano teni la ferma, fai che ti ripassi la sola non lo vettere via lancio